E per altri ragazzi sono Gilberto e sono qui oggi a portarvi la stellina della settimana 8 di Fortnite Pass Battaglia 4 Oggi farò vedere la stellina che richieste l'obiettivo di cercare un tesoro tra un orso, un cratere e una spedizione di frigorifiri Non so bene quale sia il titolo perché lo sto registrando la sera prima, comunque le sfide usciranno domani mattina Volevo ringraziare anche quelli che la scorsa settimana mi hanno dato l'augurio di passare l'esame anche perché l'ho passato Quindi ragazzuoli direi che possiamo partire Come vedete la sfida, vi sto mostrando adesso l'esatto punto in cui si troverà È molto vicino a queste casettine qua che ci sono, tra la rovina e le casettine qua Dentro questo buchettino di terra, molto facile da trovare Premetto che il video l'ho preso da uno youtuber americano quindi troverete il link in descrizione E nulla rega, direi che possiamo beccarci Al prossimo video cerchiamo di iscrivervi che voglio arrivare ai 5000 subs Dai ragazzuoli No c'è